Ricordo molto molto bene durante quell'estate del 1999, sono già passati 20 anni, roba quasi 20 anni, roba da non crederci, l'Acqua Fan Delicione e gli amici di DJ che organizzavano delle serate bellissime durante quell'estate e io avevo visto, sapevo che tanti artisti molto più grandi di me partecipavano a quegli eventi e quando DJ mi chiamò per suonare una sera da loro, ovviamente ero emozionatissimo e ricordo questo viaggio verso Riccione che tra l'altro per noi bolognesi è come una seconda casa, durante l'estate per noi Riccione è quella produrora verso il mare a cui non possiamo rinunciare, quindi mi sembrava quasi di suonare quasi a Bologna, quasi a casa mia, quindi ero molto emozionato e per me era come Wembley, voglio dire, l'Acqua Fan e in effetti qualcosa di Wembley ce l'aveva perché ricordo che c'erano 10.000 persone, c'era un prato, un mare immenso di ragazzi, di ragazze urlanti che aspettavano di cantare una canzone uscita da pochissimo, la 50 Special, quella mia famosa 50 Special che mi ha portato poi tanta fortuna come mi ha portato tanta fortuna essere stato vicino al DJ in quegli anni, al mini. La domenica è già e una Vespa mi porterà fuori città